Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ho un nuovo esercizio di ascolto e comprensione per voi e siccome siamo in pieno periodo natalizio, il testo di oggi verte su due decorazioni natalizie che sono molto molto popolari in Italia, ovvero il presepe e l'albero di Natale. Come sempre faremo due ascolti, quindi il primo ascolto sarà senza testo sullo schermo, quindi rilassatevi e semplicemente ascoltate quello che io leggo. Durante il secondo ascolto invece voi leggerete il testo sullo schermo e quindi sarà un po' più facile. Il presepe e l'albero di Natale sono le due decorazioni natalizie più popolari in Italia. Mentre il presepe è tutto italiano, l'albero di Natale viene da più lontano. Il presepe è una rappresentazione tridimensionale della natività, ovvero della nascita di Gesù. Oggi è molto famosa l'arte del presepe di Napoli, che è rimasta invariata nel corso dei secoli e che è visibile ogni anno in via San Gregorio Armeno, dove si possono acquistare statuine fatte a mano per il proprio presepe. Però il primo presepe della storia fu in realtà un presepe vivente, cioè con persone in carne e ossa che rappresentano le figure della natività. Questo successe a Greccio, una località in provincia di Rieti, nel 1223 per volere di San Francesco d'Assisi. Questo episodio fu raffigurato da Giotto in un affresco visibile ancora oggi nella Basilica di Assisi. L'albero di Natale, invece, non ha origini italiane, ma nordiche, perché nasce in Estonia, a Tallinn, nel 1441. Gli italiani vengono a conoscenza dell'albero di Natale nella seconda metà del 1800, quando la regina Margherita di Savoia, moglie di re Umberto I di Savoia, decide di addobbare un abete in una sala del Quirinale, l'allora dimora della famiglia reale. La regina Margherita era una donna molto popolare ed è proprio a lei, tra l'altro, che fu dedicata la pizza Margherita. Volendo imitare la regina, tutti hanno cominciato a replicare questo albero ed è così che si è diffusa la tradizione dell'albero di Natale in Italia, affiancandosi a quella del presepe. Sia il presepe sia l'albero si fanno generalmente l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, e rimangono nelle case degli italiani fino al 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Questo era il primo ascolto del testo, è abbastanza breve, non ho voluto fare un testo troppo lungo per motivi di tempo e per motivi di attenzione, perché quando il testo è troppo lungo l'attenzione cala ad un certo punto. Adesso noi faremo il secondo ascolto con il testo davanti. Il presepe e l'albero di Natale sono le due decorazioni natalizie più popolari in Italia. Mentre il presepe è tutto italiano, l'albero di Natale viene da più lontano. Il presepe è una rappresentazione tridimensionale della Natività, ovvero della nascita di Gesù. Oggi è molto famosa l'arte del presepe di Napoli, che è rimasta invariata nel corso dei secoli e che è visibile ogni anno in via San Gregorio Armeno, dove si possono acquistare statuine fatte a mano per il proprio presepe. Però il primo presepe della storia fu in realtà un presepe vivente, cioè con persone in carne e ossa che rappresentano le figure della Natività. Questo successe a Greccio, una località in provincia di Rieti, nel 1223 per volere di San Francesco d'Assisi. Questo episodio fu raffigurato da Giotto in un affresco visibile ancora oggi nella Basilica di Assisi. L'albero di Natale, invece, non ha origini italiane, ma nordiche, perché nasce in Estonia, a Tallin, nel 1441. Gli italiani vengono a conoscenza dell'albero di Natale nella seconda metà del 1800, quando la regina Margherita di Savoia, moglie di Re Umberto I di Savoia, decide di addobbare un abete in una sala del Quirinale, l'allora dimora della famiglia reale. La regina Margherita era una donna molto popolare ed è proprio a lei, tra l'altro, che fu dedicata alla pizza Margherita. Volendo imitare la regina, tutti hanno cominciato a replicare questo albero ed è così che si è diffusa la tradizione dell'albero di Natale in Italia, affiancandosi a quella del presepe. Sia il presepe, sia l'albero si fanno generalmente l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, e rimangono nelle case degli italiani fino al 6 gennaio, il giorno dell'Epifania. Benissimo, questo era il secondo ascolto. Spero che sia stato più facile ascoltare con il testo davanti, quindi ascoltare e leggere allo stesso tempo. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se già conoscevate la storia dell'albero di Natale in Italia oppure no. Quando è arrivato l'albero di Natale nel vostro paese? Fatemi sapere nei commenti qui sotto sempre. e sono anche curiosa di sapere se voi fate il presepe oppure no. So che è una tradizione prettamente cattolica, però magari ci sono altre versioni del presepe che io non conosco e quindi se voi le fate durante il periodo natalizio, non so, fatemi sapere. Se volete esercitarvi ancora con un'altra attività di ascolto, vi lascio nella descrizione del video i link agli altri esercizi che ho fatto qui sul mio canale. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia utile e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!